O Dio! Che ami tanto gli uomini da fare in essi la tua dimora! Ti ringraziamo dei doni concessi a Santa Elisabetta della Trinità, carmelitana scalza. Alla quale hai fatto comprendere e gustare l'ineffabile tua presenza nell'anima. Concedici per sua intercessione. Di diventare templi splendenti del tuo spirito di amore all'ode della tua gloria. E aiutaci nelle nostre necessità. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.